Questa è la seconda stagione, abbiamo cominciato ad aprile 2017 e abbiamo fatto in realtà un primo tour di prova perché noi siamo una produzione indipendente. Questo è un musical off che arriva per la prima volta in Italia e in Europa, questo ci tengo a dirlo perché è uno spettacolo che viene fatto in tutto il mondo. E niente, poi lo spettacolo piace tantissimo al pubblico e siamo ancora in giro, questa è la seconda stagione, abbiamo fatto all'incirca 30 repliche, siamo molto contenti. Beh in effetti è un bel risultato soprattutto pensando a questa presenza di tante principesse, tante donne, però insomma un immaginario capovolto. Allora questo è uno spettacolo in realtà che è costruito un po' sul vaudeville, infatti anche la scenografia dietro ricorda un po' un teatro d'epoca, si ride tanto, si scherza tanto, però poi si riflette anche tanto perché lo spettacolo ha temi importantissimi che riguardano il pubblico femminile e perché è stato scritto da un insegnante di storia che si è chiesto come le principesse in realtà vengono viste nell'immaginario collettivo quando invece poi sono delle donne a tutti gli effetti con i problemi che tutte le donne hanno. Quindi è uno spettacolo in realtà comico, leggero ma che poi ti lascia tanto da riflettere dopo. Ecco Giuseppe Di Falco, produttore teatrale di Lucera che torna dopo 11 anni qui al Teatro Garibaldi. La gavetta è partita dalla città natale facendo parte anche dell'Accademia Resital, insomma occupandosi di musical e oggi è produttore teatrale, sicuramente una grande soddisfazione. Sì, io torno qui al Teatro Garibaldi dopo 11 anni esattamente e avevo cominciato qui con la mia compagnia, gli artisti senza nome, con la scuola, amici di infanzia. Il teatro all'epoca era ancora un sogno, poi sono partito e è diventato il mio lavoro a tutti gli effetti. Ritorno a Lucera perché ci tenevo a condividere con i miei concittadini questo show che mi sta dando veramente grandi soddisfazioni in tutta Italia. Ecco, ci saranno ancora altri progetti? Sicuramente sì, io faccio parte di una produzione, la produzione si chiama E-Performers, chiaramente non sono da solo perché insieme a me ci sono altri colleghi talentosissimi, bravissimi, ci tengo a dire tutti under 30 perché il teatro italiano oggi è ancora un po' rilegato a un teatro visto soprattutto per gli adulti e fatto da adulti. Invece la produzione di cui faccio parte è entrata a far parte di un progetto che si chiama Mindy insieme ad altre produzioni off, cioè indipendenti che non hanno finanziamenti e noi siamo tutti under 30, quindi diciamo ci autofinanziamo e andiamo avanti con il grande riscontro del pubblico. Tornando al discorso di Lucera, come ha risposto il pubblico locale a questo spettacolo? Il pubblico ha risposto, devo dire, benissimo perché sono sicuramente, è un genere un po' difficile per il territorio, è un musical a metà tra il cabaret, il teatro musicale, però devo dire che il pubblico si diverte tanto a Lucera così come nelle altre piazze, noi siamo molto contenti.